Marangoni, la licenza per questo negozio per la quale sono quattro volte che lei sale sul Colosseo dicendo che si butta di sotto se non gliela danno, sono quattro volte che gliela concedono e lei quattro volte se l'è venduta! Ma non me la so venduta, me l'hanno rubata, commissario. Abbi almeno un po' di dignità, schi vergogni! Ma perché me devo vergognar se io voglio lavorar?